Immagina una lampada. Ha una luce chiocca o brillante, luci calde oppure bianche. Sta in piedi da sola, ha un'aria esuberante e appesa al soffitto. Guarda, è proprio elegante! Può essere alta e sottile, barocca o minimale, vario pinta e colorata. A suo modo è originale, ci sono forme di ogni tipo e a volte pure mi chiedo ma è una lampada quella che vedo? Dopotutto, una lampada è una lampada. Anche perché, consideriamo ciò che conta. Deve far luce, no? Super! Super nuovo, super unico, super salone. 5 settembre, Fiera Milano Raw.